sempre e comunque forza napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te ciao a chiù e forza napoli ragazzi vi presento il mio cavaliere azzurri io ci usciarie azzurri fatto di pacchetti di sigarette del napoli interamente pacchetti di sigarette del napoli andate a casa questa è tutta opera fatta a mano da me guardate guardate quanta sorda mi ha già fumato oggi questo già lo feci quando stavo a napoli tra slochi oppure spostamenti vari un po di colla si era staccata poi l'ho un po giustato con la colla a caldo come ben vedete eccolo qua vedete interamente quei pacchetti di sigarette del napoli vedete pure un robot che ha faccio guardate il regno ciucciarie vedete tutto interamente fatto da me a mano una santa pazienza ha detto guardate quanta sorda mi ha già fumato questa amuletta di supporto perché era troppo pesante se non ciucciarie se mi schiettavo pacchetti di sigarette quindi sembra una amuletta azzurra come di qua e di là vedete tutto interamente fatto a mano ovviamente di sigarette ma già fumato tutta cosa la faccio mare nata cosa ho voluto robottino con lo giaccao con due schiacciando la capa e voilà ecco qua un'altra ritocchino è giusto me adesso è completo vi faccio vedere con tapparelli a passare ecco qua vedete e questo è e questo è e questo è micchi e questo è il robot robottino azzurro del napoli ciao a io un bacione e sempre forza napoli perché tutto riesce a munnezza e si chiede ciao a io e forza napoli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti